E' un ritiro davvero speciale quello dei giovani arabo-israeliani della Tarshiya Football School nell'Alta Galilea. La scuola calcio accoglie circa 200 ragazzi e ragazze dai 5 ai 16 anni. E' un bel esempio di convivenza tra fedi diverse e lo si vede anche nelle giornate trascorse tra i monti del Trentino. Sono arrivati in 26 dal nord di Israele, adeggia nel banale del 27 giugno al 3 luglio, con 6 accompagnatori e ospiti della parrocchia di San Carlo Borromeri Trento, come squadre di calcio ben più blasonate che hanno scelto il Trentino per la loro preparazione per campionato. Vi hanno modo di gustare la bellezza delle diversità che sanno andare d'accordo, afferma Don Lino Azzatelli, parroco di San Carlo. A Deggia, dove si incontrano antichi percorsi riscoperti e valorizzati, come il sentiero di San Vili e il sentiero Frassati, si incrociano oggi i passi di chi cerca ogni giorno di seminare pace e non odio, in una terra chiamata santa da più religioni, che però non sembra capace di uscire dalla spirale dell'odio e della violenza. Bona parte! Bona parte! FIFA Italia! Grazie Italia! Grazie Italia! No problemi! Just do it! Grazie Italia! Grazie buonelino! Italia è la migliore! Brava! Buonelino! Bravo! Bravo! Grazie a tutti.